Mentre ci godiamo un bel pompelmo su questo tavolo molto disordinato Molto buono il pompelmo, vero? Vi volevo mostrare questa è la lista delle ultime cose che ci mancano per finire il vano Ed ecco che nell'ultimo mese di lavori, a ridosso della scadenza dell'affitto e dell'omologazione Danilo decide di rompersi un dito Un'ottima fine Penultimo giorno di lavori a capannone Anche il tempo è super scontento, super avverso È stata già una missione uscire di casa per non bagnarmi il dito E si va Verso la fine Stiamo smantellando il capannone Tutti i pannelli di XPS ora sono qua Qui c'è un disastro assurdo Stiamo sistemando, stiamo iniziando a fare viaggi per portarvi le cose da qua Vi diciamo che un po' di tristezza ce l'abbiamo Perché comunque qui dentro ci abbiamo passato così tanto tempo Che nonostante tutto comunque ci mancherà Ovviamente non possiamo andarcene dal capannone lasciando tutto zozzo Il mobile come potete vedere non c'è più All'inizio quando l'abbiamo montato questo mobile era praticamente caduto per terra E si era spaccato Per noi ha una grandissima storia e dirgli addio È davvero triste Oggi è l'ultima volta che dopo la palestra andiamo al nostro supermercato di fiducia Oggi è praticamente l'ultimo giorno vero effettivo di lavori Domani sarà soltanto un esci e basta Ci scade la prenotazione del capannone alle 10 di mattina Martedì 7 novembre È andato appunto tutto preciso perché ci è scaduto il 7 Ci è scaduto il 7 l'affitto del capannone e l'8 c'è l'omologazione quindi assurdo neanche a faccia costa Stiamo liberando tutto Ciao ciao Questi sono gli ultimi minuti di lavoro di sera al capannone domani mattina Ce ne andremo alle 10 quindi questa sarà l'ultima sera effettiva al capannone Abbiamo sgomberato tutto non c'è più nulla Solamente tanta immondizia da buttare Chiudiamo i lavori vestiti totalmente da buttare Strautilizzati per camperizzare questo fantastico mezzo Siamo riusciti Non ci credevamo neanche noi A siliconare le scocche Abbiamo passato del Sicaflex soltanto sulla parte superiore delle scocche Perché se per caso dovesse entrare l'acqua in questo modo potrà comunque uscire dal basso Ragazzi è arrivato davvero il momento e ci viene da piangere Stiamo piangendo perché abbiamo passato 10 mesi della nostra vita qui insieme A combattere su ogni problema È stato anche difficile magari in molti momenti sono stati nascosti Non l'abbiamo evidenziati Però comunque è stato davvero difficile È stato un percorso incredibile La prima foto che abbiamo fatto qua era totalmente da incosciente Noi non sapevamo quella a cui stavamo andando incontro Ci ha fatto crescere tantissimo Sono stati 10 mesi che però in realtà valgono 10 anni Mi viene da piangere perché anche quando guardo i video guardo tutti i ricordi che abbiamo Tutto ragazzi I video sono anche per noi un ricordo incredibile E si vede come eravamo inesperti all'inizio E come invece poi abbiamo fatto le cose Con più tranquillità e sicurezza alla fine Ci ha temperato Se l'ha fatto qualcuno Lo possiamo fare anche noi Abbiamo liberato totalmente tutto Il van è pronto per l'omologazione E sarà domani Domani ragazzi Questa bestia diventa auto caravan effettivo Si realizza un sogno Quello di avere una casa Un mezzo Un luogo dove sentirsi al sicuro Il sogno di poter dire Lo abbiamo fatto noi Ultimissima pulita con il compressore Ma un casino bestiale Sì che bello Qui abbiamo gli ultimi pezzi da montare Questo qua Conosciamo ogni vite Ogni bullone di quel furgone Ci ha regalato tanto E ci ha tolto tanto Tra gioia e dolore Molte volte avremmo voluto dire basta Non ce la facciamo Questo non è per noi Ma perché dire basta Quando nel mondo ci sono persone Che quel basta lo tengono lì Sulla punta della lingua Ma continuano Stringono i denti E trasformano quel basta In ce l'ho fatta Stiamo uscendo definitivamente Dopo dieci mesi E otto giorni di lavoro Usciti Può essere una camperizzazione Il terminare gli studi O intraprendere un percorso Che fa paura Per il solo fatto che è difficile Mai arrendersi Perché se lo ha fatto qualcuno Lo possiamo fare anche noi O al massimo Saremo noi primi a farlo Fare un van Ci vogliono i soldi Per fare i soldi Per lavorare Ma per lavorare Per fare il van Ci vuole la pazienza Per fare pazienza Ci devi nascere E a questo punto Dopo dieci mesi Possiamo dirvi Come camperizzare un furgone Sprecando molto meno tempo Di quello che è servito a noi Dieci mesi sono tanti Considerando anche Che noi abbiamo lavorato Quasi tutti i giorni Compresi i festivi Time to talk Per fare questo discorso importante Possiamo accendere anche una luce Abbiamo deciso di creare La lista delle componenti Necessarie a camperizzare un van Ovvero un elenco Dettaillatissimo Di tutte Ma diciamo Tutte le componenti Che abbiamo utilizzato Dalle vite Ai bulloni Agli angolari Per l'alluminio estruso Ai pulsanti touch Come questo Che abbiamo in questo pensile Che vi permette di regolare La luminosità del led A tutti gli utensili E anche gli accessori Che vi serviranno Per migliorare L'esperienza della van life Questa lista ha l'obiettivo Di farvi risparmiare Tempo e denaro Tempo perché non dovrete Sprecare ore e ore A cercare ogni singolo Componente per la camperizzazione Per esempio la tipologia Di elettrovalvola Per lo scarico delle grigie E denaro perché abbiamo Sempre e diciamo Sempre scelto Le componenti Con la massima qualità Al minor prezzo Ma nella descrizione Di vostri video Sono già presenti Gli oggetti Che avete utilizzato Nella camperizzazione Quindi questa lista È inutile Avete ragione Solitamente Nella descrizione Del video Linkiamo gli oggetti Utilizzati all'interno Di quel video Ma questa è una minima Parte di tutto Ciò che serve Infatti ciò che facciamo È linkare gli oggetti Fondamentali Inerente all'argomento Del video Per esempio La pompa 12 volte Per il video Dell'impianto idraulico O le perlini in pvc Per il rivestimento Del soffitto Delle pareti Non possiamo linkare Le viti Bulloni Il tipo di legno Le varie tipologie Di angolari Per alluminio estruso Le maniglie Le specchi Altrimenti diventerebbe Una descrizione infinita E voi non ci capireste più nulla È tornato Danilo Ciao La lista che abbiamo creato È un elenco Costantemente aggiornato Se un nuovo prodotto Esce sul mercato Ed è migliore Di un prodotto Presente nella lista Lo sostituiamo Se un prodotto Non è più disponibile E voi ve ne accorgete Per primi Ci segnalate il problema E lo sostituiamo Immediatamente Nella lista sono presenti Anche un paio di consigli Per effettuare al meglio Gli acquisti Ma questa lista Dove si può vedere? Per acquistare la lista Prendete il vostro computer E andate sul sito www.daniloessara.it Non potevamo scegliere I nomi migliori Subito in home page Troverete la lista Con una breve descrizione Di che cos'è Cliccate sul pulsante acquista Inserite i vostri dati Tutte le informazioni Per il pagamento Effettuate il pagamento Successivamente Vi arriverà una mail Al vostro indirizzo Di posta elettronica In cui potrete impostare La password Per il vostro account Account molto importante Perché vi permetterà Di accedere al nostro sito Per sempre Infatti se cliccate Nel tab in alto Lista componenti Vi apparirà un messaggio Di errore In quanto il sistema Pensa che non abbiate Acquistato la lista Cliccando su accedi Ed inserendo le credenziali Del vostro account Potrete finalmente Visionare la lista Vi consigliamo di visionare La lista da computer Per avere una lettura Più semplificata Ma potete comunque Visionarla da smartphone O tablet Perché il sito Che abbiamo creato Con le nostre manine È anche responsivo Ovvero si adatta In base al dispositivo Dove lo visualizzate Cioè Che guarda da lo parla Dato che vogliamo Aver modo di interagire Con tutti coloro Che acquistano la lista Anche in caso di problemi O di consigli Abbiamo deciso Di limitare le vendite Per un periodo L'acquisto della lista Sarà disponibile Per un mese Ovvero da oggi 8 gennaio Fino all'8 febbraio Il costo sarà Di 69 euro Ma per i primi Tre giorni Dall'uscita di questo video Quindi fino all'11.59 Dell'11 gennaio La potrete acquistare In sconto a 49 euro Ma non è un prezzo Eccessivo per un elenco? Secondo noi No È un prezzo giusto Abbiamo investito Tantissimo tempo Per questo progetto Tantissimo tempo Per ricercare materiali innovativi E migliori Per esempio Per minimizzare i pesi I costi E migliorare la qualità del van Abbiamo investito Tantissimo tempo Nello spiegare Tutto ciò che facevamo E creare dei contenuti Gratuiti Visionabili su youtube Da voi La vendita di questa lista È un modo per finanziarci Al fine di realizzare Progetti simili Ma anche più impegnativi Di questo Con l'acquisto Potrete anche accedere Alla sezione Schema impianti In cui sono presenti Gli schemi Dell'impianto elettrico Idraulico E dell'acqua sanitaria Del nostro van Se avete domande o dubbi Iscriveteci direttamente A info.danilesara Che ho c'ho a gmail.com Ok vi ricordate La lista inizio video? Questa qui Secondo voi Siamo riuscite a terminare tutto Prima di uscire dal capannone? Ovviamente no E quindi si continua tutto A casa mia Mentre Sara mangia un'arancia Vi dico che oggi È un grande grande giorno Oggi finalmente Il nostro van diventerà Effettivamente un camper Perché sostituiremo La panca Con il sedile singolo Quindi leveremo Questa bellissima panca Doppio sedile Al quale vi siete affezionati molto E questa cosa La stiamo facendo Dopo l'omologazione Quindi questo camper È omologato Tre posti viaggio Ma di fatto Legalmente possiamo fare Questa sostituzione E viaggiare solo con due posti Un po' come si fa Di solito in un pulmino A nove posti Si tolgono i posti dietro E lo si adibisce a minivan Con una camperizzazione ammovibile È arrivato il momento Di fare l'unboxing Della base Questa è la base Del nostro sedile Ebbene Le varie cose Proprio così la devono fare Lo scotch mi piace più Questa è la base originale Del Volkswagen Crafter Dal modello 2017 in poi Seconda generazione E l'abbiamo pagata 264 stervine E con le spese di spedizioni La dogana Sono arrivate a 300 E la multa della dogana La multa della dogana Si è alzato di molto il prezzo Abbiamo voluto comprare La base originale Per essere sicuri Che gli attacchi Siano congruenti Con quelli del pianale Il taglio della torta Ecco la base È esattamente identica A quella del sedile guidatore Intanto leviamo questa panca Così capiamo bene lo spazio E come muoverci Questa panca L'avevamo già levata più volte Quindi l'abbiamo fissata Con soli 4 bulloni Anziché 7 Chiave e tricchetto da 17 Inizia la magia Comunque il grande aggiornamento È che Danilo finalmente Riesce a lavorare Perché altrimenti prima Non vi dico che facevo tutto io Però sì Ecco In questo momento Lui ha dei cerotti Perché ha tolto i punti Hanno messo questi cerottini bianchi Fungono da punti In caso di tagli molto superficiali Lui invece Siccome è andato in profondità Me lo ricordiamo Dai che è l'ultima Abbiamo appoggiato la piastra E 3 fori su 4 corrispondono Questo, questo e questo Erano i fori già predisposti per la panca Però nella panca mancava questo foro qua Che è quello che dobbiamo fare In teoria quando bucheremo Ci sarà già un foro Dovrebbe esserci Perché l'avevo visto da sotto E dovrebbe essere filettato Quindi va bene Metterci il bullone Non dobbiamo mettere Un controdado da sotto Facciamo il contorno Della matita Dell'ultimo piedino Coro filettato Perfetto per metterci Questo bullone Affirata di dito Che madre Mi sono scossa Spendi l'inverter Io l'ho chiamato E lui sta arrivando Guardatelo Dai fai vedere come sia A tuo agio qui dentro Pupa pulito adesso qua Pupa di mamma Questa è la papà Questa è la mamma E' la prima volta Che lo mettiamo Vicino a quell'altro Questo è il sedile Che abbiamo comprato E' usato E' diverso ovviamente Da quello che avevamo Ma è l'unico Del Volkswagen Che siamo riusciti A reperire Non è assolutamente Facile trovare Un sedile singolo Il sedile poteva essere Perfetto al primo colpo Ovvio che no Abbiamo allargato I due fori Che andranno qua Mentre ora Stiamo facendo Proprio il foro Per questo Il sedile lo dispone E sarebbe circa In questa posizione Ma la piastra Non lo ha Per cui stiamo facendo Un foro in questa Corrispondenza Sul binario del sedile Ora Danilo Con questo freddo Gelido Si mette fuori Mentre c'è chi dorme Tranquillo C'è lui Allora Questo è il sedile Di un Volkswagen Crafter del 2012 E speravamo Che i binari Del sedile Fossero coincidenti Con la base I fori fossero coincidenti Ovviamente Non è stato così Perché questi fenomeni Della Volkswagen Hanno fatto il modello Del 2012 Con i binari Molto più distanti I modelli dal 2017 In poi Con i binari Molti o più stretti Sottolineiamo Che non abbiamo Comprato la base Del 2012 Perché poi Sarebbero cambiati Gli agganci Quindi gli attacchi Sulla lamiera Adattiamo La base con il sedile Piuttosto che la base Con il pianale Proviamo a forare Questi binari Affinché è tutto Combaci E ci abbiamo provato Sapevamo che questo Aveva un pericolo Ovvero Che lo scorrimento Del sedile Non sarebbe stato Più fluido I binari Si restringono Forza di cose Non scorre Infatti come vedete È un po' Io rido Per non piangere Ve lo giuro Secondo problema Secondo problema È che lui Si stava andando A lacciare la cintura Non attacca un c***o Non attacca Non attacca un c***o Cambiamo la cintura Direte voi Sì però Basta ci siamo rotti Così tanto che abbiamo Smontato il sedile Abbiamo comprato Quello originale Sedile nuovo E la differenza Si nota parecchio Per fare le cose perfette Come piacciono a noi Questo è il risultato Finale del sedile Un sedile praticamente Nuovo Nuovissimo Identico a quello Del guidatore Ovvero questo qui E con la cintura Che si inserisce Correttamente Come dovrebbe essere Perfetto Siamo davvero felici Che tutto sia risolto Per il meglio Ora continuiamo con la lista E poi non tanto per il meglio Dato che abbiamo speso Un sacco di soldi Abbiamo aspettato tantissimo Non vedevamo l'ora Di aprire questo pacco Perché darà Una rivoluzione Questa di Nets Allora Siamo pronti per vedere Il colore Eccolo qua Io già l'ho messo E è emozionante Vado Questa sarebbe la seduta Di questa panca qua Guardate che spettacolo Il bianco Con il bordino Marrone qua E il giallo Eravamo indecisi Anche con un mattonato Arancione scuro Molto bello E lo consigliamo tanto Solo che per noi Con il fatto del verde Volevamo rimanere Un pochino più chiari Questo Spettacolo Oddio mio Live test Della cuscineria Di Archeticom 3 2 1 Lo schienale È fantastico Anche perché Poi prende il materasso Quindi è trattato Come se ti senti Un doppio schienale Perché arrivi al materasso Da questo lato Era fondamentale Avere uno spessore tale Perché altrimenti La schiena era Troppo distaccata Invece in questo modo Abbiamo creato proprio Un divano perfetto Chi lavorava in quella posizione Aveva lo schienale Troppo distante dal tavolo Invece in questo modo Ci hanno fatto Anche un altro pezzo Per ricoprire Questo qua Come vi avevamo già detto Questo telo Non lo dovevate guardare Perché non ci sta Era provvisorio Questo è il telo Che ricopre Il sotto del letto Quando il letto si apre Fa questo movimento E questo telo Va a baciare le doghe Abbiamo chiesto Gentilmente Ragazzi Se si facessero un altro pezzo 1 3 I ragazzi di Archeticom Sono miei compaesani Perché sono pugliesi E nella confezione C'erano anche I taralli Dolci E poi ci sono anche Due pochette Molto belle Bellissime Eravamo indecisi Se fare la cucineria Di questo colore E hanno compensato Quella scoccia Altri taralli E' un po' di effettivamente Buono Abbiamo levato tutti i lenzuoli Che stavano sul materasso E stiamo posizionando Il telo Prima sotto Come potete vedere In modo tale Che quando scorrerà Il letto Le doghe Non rovinano Il copri materasso Sempre un po' Di rumorino Questo sarebbe Il materasso Fuso Noi mettiamo Questo telo qua Per dormire Questo telo qua Lo mettiamo sopra le doghe Apriamo il materasso E quindi appunto Non ci darà più fastidio Il telo Senza metterlo Chissà dove E poi nel momento In cui lo richiudiamo Lo riabbracciamo Archeticom È un marchio giovane Gestito da una famiglia Di appassionati professionisti Sono specializzati Nella creazione Di cuscinerie E fodere su misura Fanno di tutto Puff Poggia piedi Poltrone sacco Hanno addirittura Una gamma di cuscini E lettini galleggianti Sono stati maniacali Per la creazione Della nostra dinette Così tanto Che ci hanno inviato Tantissimi campioni di stoffe Per assicurarsi Che scegliessimo Il colore giusto E siamo veramente fieri Della nostra scelta Potete richiedere Un preventivo su misura Scegliete il tipo di cuscino Per van e camper Impostate il tessuto Il colore E le misure E dicendo che ci conoscete Riceverete il 10% di sconto Ora continuiamo Abbiamo due grandi problemi Questo è il portapacchi del van E vogliamo fissare I vari led Sui profili laterali Questo perché Su questi altri profili Vogliamo metterci Le tavole da surf Mentre dall'altra parte Ci sono i pannelli solari Per il fissaggio Ovviamente dovremmo far scorrere Un dado da 8 In questo profilo Però non lo possiamo far scorrere Perché sono presenti Le viti Di questi profili trasversali Primo problema È che dovremmo smontare Tutte queste viti Far scorrere i dadi E rimontarle Secondo problema È che le staffe di fissaggio Dei vari led Hanno un foro Per una vite M6 Mentre qui serve una vite M8 Li foriamo tutti Fuori allargati Ora montiamo Tutte le barre led Allora Ci siamo Questa la devo posizionare così Mi segno l'esatta posizione Nel caso in cui Si dovessero muovere Queste purtroppo Le devo svitare tutte Mannaggia Bello duro Bella dura Quel tappo Devo mettere prima Così Posso regolare Dopo aver montato tutti i led Danilo ha preparato La scatola di derivazione elettrica Ha fatti fuori Per inserire i passacavi Ed ha inserito Tutte le componenti utili Per comandare i led perimetrali Una scatola fusibile Ed un interruttore wifi 12 volt È un po' incasinata Ma ora vi spieghiamo Tutto Il modulo wifi Ha un ingresso e 4 uscite Cascuna con un interruttore wifi Comandabile Con uno di questi 4 pulsanti L'ingresso è stato collegato All'alimentazione del van Ovvero alla scatola fusibile 12 volt Che come sapete Si trova in questo mobile Se avete visto il video Dell'impianto elettrico Saprete di cosa stiamo parlando Le uscite vanno Ad una scatola fusibile Da qui si diramano Le luci led Presenti nei lati del furgone Ogni fusibile corrisponde ad un lato illuminato Posizioneremo la scatola qui In mezzo ai due oblo Perché è un perfetto punto pianeggiante Ovviamente tutti questi cavi Saranno tagliati e gestiti In modo tale da arrivare Ai vari ponti luce Prima vediamo la scatola Stiamo riempendo di Polimax Tutta la nostra scatola E l'abbiamo fissata È passata una nottata Il Polimax si è asciugato Ma abbiamo un problema Come vedete Questi passacavi Sono troppo larghi Questa è la guarnizione Il nostro cavo 2x1 Naviga in questa guarnizione Non va bene Per questo motivo Ho preso altri passacavi Con l'intento Di mettere questa guarnizione All'interno dei miei passacavi Il problema è che Questa guarnizione È troppo lunga Per questo passacavo Ma c'è una soluzione a tutto E la taglieremo Cerchiamo di farla Della medesima dimensione Dovrebbe andar bene Guarnizioni messe Ho tagliato un po' i cavi Da questa linea Prenderemo l'alimentazione Da questo cavo Quindi alimenteremo L'interruttore wifi E a loro volti positivi Andranno a una scatola Fusibili posta All'interno del box Questo primo cavo Andrà ad alimentare Il barrone led anteriore Questo cavo Che ho tagliato fino a qui Andrà ad alimentare Tutte queste luci laterali Quest'altro cavo Invece lo porterò Fino al retro del van Per una predisposizione futura Delle luci posteriori Che non installiamo in questo momento Perché? Non abbiamo trovato ancora Una soluzione che ci convince Quindi le installeremo in futuro E quest'ultimo cavo Invece andrà ad alimentare Tutte le luci di quel lato Quindi faccio tutti i collegamenti Fascetto tutto E vi mostro il lavoro completato Cioè ragazzi Guardate che bel lavoro Che ha fatto Danilo È tutto ordinato I cavi delle luci Li ha fatti passare All'interno dei corrugati Li ha ben fascettati Guardate là la scatola Quanto è ordinata È davvero tutto preciso Aspettiamo la notte Per vedere l'effetto finale E con un piccolo tocco Si accendono le luci Che con la loro potenza Illumina i lati del nostro fantastico van Che ormai ha tutto Manca solo la connessione internet Con un buon router Questo è il router che utilizzeremo Ovviamente si alimenta con la 220 In particolare questo è un trasformatore Che trasforma la 220 in 9 volt Ma noi lo alimenteremo direttamente a 12 volt Quindi taglierò il jack Prenderò positivo e negativo E lo collegherò alla 12 volt del van Abbiamo scelto un router della TP-Link Che funziona inserendo delle sim card Router posizionato col velcro Collegato ed ovviamente funziona Tutta la rete è configurabile attraverso app Da smartphone o da computer E l'ho posizionato in questo modo Così ho direttamente l'accesso Per inserire la sim card Per spegnerlo Insomma è facilmente gestibile Sara sta preparando gli specchi Che posizioneremo su questa parete È ora di personalizzare al meglio questo van Posizioniamo un po' di colla Sulle nostre cornici a specchio Che andranno qua L'idea è la seguente Quindi di fare un selfie E vedersi tutti Siamo pronti per aggiungere Due gancetti in questa zona qua I quali saranno utili Per appendere un po' di cose Io pensavo di mettere Uno più alto qua E uno più piccolo qua Oppure il contrario Cerchiamo di stare Il più dritti possibile Segniamo i fori Facciamo i fori Ne avviso uno alla volta Così lo posso addrizzare meglio Ora che dritto Metto anche la seconda vite Inseriamo il grano nel gancetto Ed avvitiamolo Ho già messo anche il secondo E voilà I migliori appendini di sempre Nel frattempo Sara sta completando La pulizia del piano a induzione Nella lista infatti C'era anche di passare il silicone Sul piano a induzione Abbiamo fatto tutta la bordatura Del piano a induzione Con il polimax nero Per evitare che l'acqua penetri All'interno del piano a induzione O per evitare anche Che ci vadano briciole Polvere eccetera Molti direbbero Poi sarà difficile Se si deve essere un reperto Abbiamo messo veramente Un finino finino Molto molto sottile di polimax Che stai facendo tu Guarda che se ti vede Danilo Il polimax si è asciugato E Sara sta rifinendo Tutte le bordature Del piano a induzione Possiamo spuntare Un altro punto nella lista Ma prima di continuare i lavori Dobbiamo fare una cosa Sostenuti nel mondo del legno Quanti listelli Tronchi legno Di ogni tipo Grazie a te Che l'abbiamo fatto Bellissimo Bello Che figata Che figata Zero veri sbiancati Io qui non c'entro manco molto Era obbligatorio Andare a mostrare il van A Stefano E a tutti i ragazzi Di Dori Calignami Che ci hanno sempre sostenuto In questa camperizzazione Però ora continuiamo Con la lista Che non si completa da sola Un altro problema È che noi abbiamo creato Un pannello Questo pannello qui Per coprire il boiler In modo tale Che dal garage Non si vedesse Il problema però È che quando abbiamo installato Il riscaldamento Sono stati inseriti Quei due tubi là E questi ci ostacolano Il pannello che abbiamo creato Quindi abbiamo per forza Modificarlo affinché entri bene Visto che non siamo più Al capannone Dovrò fare questo lavoro Nel giardino della casa di Sara Ma qui intorno Non ci sono presi di corrente Come utilizzo I nostri fantastici Attrezzi da taglio Con la nuova Bluette AC70 Accendiamo la Bluette Inseriamo la presa AC on E si taglia Possiamo non mettere Un bordino qui Per rendere il tutto più bello Pensa Sara Dall'interno della panca Abbiamo fissato Questo bordino nero E questo pannello qua Questa è la vista Da questa parte E questo è il risultato Dal garage del van In quest'anta qua Come potete notare C'è tantissimo posto Però manca una menzone Altrimenti non sfrutteremo Questo spazio di stivaggio Superiore Ho fissato gli angolari Mentre Sara preparava Il pannello di legno Per la menzone Questo è il pannello Ora lo stiamo rivestendo Con artesi Bella pronta Per essere montata Ah bravo Ok stiamo facendo Il lavoro di alta precisione Per evitare la flessione Che c'è Giseriamo un ulteriore Angolare centrale Ovviamente Questo pensile Non potrà sorreggere Cose pesantissime Per i te Va benissimo Guardate Che spettacolo Ragazzi Per magia Abbiamo duplicato Lo spazio stivabile Fenomenale Dopo dieci lunghi mesi E anche un po' di più Perché abbiamo lavorato Anche in questo periodo Nel giardino di Sara Possiamo Dire Che il van È finalmente pronto Totalmente terminato Prima vi abbiamo detto Che oggi per noi È l'8 gennaio In realtà non è così Sappiamo che questo video Uscirà l'8 gennaio Noi abbiamo Tra virgolette Un altro calendario E in questo calendario Si avvicina Il giorno della partenza Vedrete dove andremo Con il nostro van Non vediamo l'ora Di goderci tutti Gli sforzi che abbiamo fatto E di mostrarvi Com'è questo mezzo Su strada Ma non ci siamo dimenticati La cosa più importante Il nostro van Si chiama Amarillo Comunque abbiamo riguardato Il video E ci siamo dimenticati Di chiedere il portabagagli Della golf No ma poi non sai Chi c'è dentro la golf Quanto te ne approfitti Ogni volta eh Grazie a tutti